ciao a tutti ragazzi sono shadow e benvenuti in questo secondo episodio su fortnite vediamo se oggi andrà un pochino meglio a livello 4 avendo fatto tre partite avendo fatto praticamente vomitare ma è veramente difficile anche qui boh e ciò su cosa significa queste sono tutte persone attenzione è che così seccano subitissimo però alla fine è anche meglio che impari oh che è successo cos'era quel bug assurdo ragazzi ci sono dei problemucci mi sa perché vedo tutto così a parte che non ho armi quindi delirio potrei picconarli ma allora entriamo dai mi prende qualcosa veloce eccoci però almeno fammi prendere un'arma una una giusto per provare a sparare ma vedete perché perché questa gente contro di me perché sono troppo forti credo sia un gioco nel quale bisogna perderci la vita per arrivare a dei buoni livelli non so se ne avrò mai il tempo ma mi piacerebbe almeno una kill sarei la persona più felice del mondo se riuscissi già a mirare qualcuno sarebbe top credo che la costruzione ora non sia nelle mie priorità ah me lo lancio da solo ok però va troppo lento ragazzi datemi indicazioni su come atterrare intanto qui c'è già uno e se io lo bellissimo piccone adesso entro giù lui ha già preso armi e io crevo questo non si 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 boh c'è il danno alla caduta giusto per forse si allora intanto qua abbiamo un credo alle nostre spalle ma non ci posso fare niente non ho armi mi sa che non mi sono buttato in un punto molto felice dai un'arma un'arma almeno per provare a difendermi dentro le casse no no dentro queste cose qui non ci sono impossibile ok e immagino che chi si gioca da tempo sa già dove possono essere le armi quindi dove buttarsi e via dicendo io invece non lo so quindi vado a casissimo allora ah c'è un forziere bello bello il problema che allora dovrei costruire andare lì sopra no ci sarà anche una scala dai non mi fa costruire perché a parte che non so se ho il materiale a sufficienza ah sì forse ce l'ho so già che morirò nel provarci comunque allora scala eccoci ho sbagliato questa volevo fare nooo cosa ho fatto l'ho ucciso col piccone non ci credo beh ragazzi ok adesso sono un uomo felice ora posso anche morire non so che armi tenermi ho sentito uno sparo sinceramente ma io devo provare le armi quindi anche a costo di farmi sentire le provo ma questo è tipo un fucile a pompa credo nooo mazzo oh almeno dammi il tempo che riesco di mettere l'arma ho proprio vabbè devo ancora imparare i tasti eh per filo e per segno quindi sono un po' lento però sono un uomo felice come vi ho detto ne ho ammazzato uno col piccone chiaramente immagino come si sia sentito quello lì comunque ottimo ragazzi mi raccomando datemi consigli utili su dove eh atterrare e soprattutto sulle armi la mira penso che non mi possiate aiutare più di tanto in quanto dipende esclusivamente da me però se già sapessi un po' di armi magari quali usare quali tenere quali scartare facilmente sarebbe già ottimo poi ho trovato anche delle bombe nelle partite scorse e volevo capire se sono utili o meno non ho materiale quindi non posso andare lasso credo ma però c'è qualcosa beh siamo già a buon punto direi cos'è questo cosa ho appena trovato anche a costo di modi ragazzi devo provare perché se no non imparerò mai allora y ma qui non ci sta ma cos'è sta roba non lo fa costruire ah beh probabilmente serve il legno giustamente va bene già se riesco a imparare qualche tasto sono contentissimo ho visto uno ho visto uno io ho l'istinto di vado incontro ma so già che potrei avere la peggio apri si apriamo tranquilli un bel fucile d'assalto delicatissimo ecco io vorrei andare un pochettino più veloce possibile? no ragazzi anche perché il mio problema è che non ho nintendo switch da così tanto tempo quindi e ancora qui tasti faccio un po' di casino questo ve lo devo dire non so se si era capito ma allora con questo cosa si dovrei fare giusto per capire andare in giro posso buttarmi? o muoio? ah no posso buttarmi andiamo verso la morte dai per scendere come si fa? non si può scendere si si potrà scendere dai perchè non mi fa scendere? come si fa a scendere? ok non so come ma sono sceso questa questa eh eh scudo? una cosa del genere non ho scelto un bel posto mi sa però si uno scudo comunque no non voglio più salire già ho problemi di mio controllarmi figurati sopra un hoverboard intanto sento spero che poi in post riuscirò a toglierlo ma sento switch che sta eh praticamente implodendo no scherzo a parte a parte tutto sta però mandando le ventole parecchio forte ci siamo in un campo da calcio metallo va bene uscì così ok questo da distanza ravvicinata questa anche ho detto nelle missioni giornalieri tra l'altro che c'erano da fare mmm delle cazzen ho finito la le munizioni ho finito le munizioni o dovevo ricaricare perchè non so se ci sia la ricarica automatica o meno vabbè prossima partita qualcuno sta morendo da solo ma siamo 86 persone ma veramente sono tantissimo quanto è il massimo? 100? già il fatto che io riesca a sopravvivere all'atterraggio è già una buona cosa mi sa c'è anche chi non riesce a farlo questo è un fucile a pompa come vederlo così sembrerebbe che vi devo dire allora qui mi sparo questa ok questo fucile a pompa le munizioni sono poche o sbaglio questo cos'è? oh nulla che mi serve adesso credo mamma mia sono lontanissimo dalla zona safe perché mi devo dare una mossa lì c'è un bello scrigno arancione proverei a prendere dov'è? mamma mia vedete che io ancora ho problemi con i tasti allora cecchino potrebbe essere utile però perchè è capace a sparare però se tipo da qua vedessi qualcuno potrei usare questo per mirare ok così non mi rischio a tenere quello no non mi fido sono lontano ancora dalla safe area da almeno mossa poi in realtà non so esattamente cioè se ti uccide istantaneamente o se ti toglie vita gradualmente non lo so so solo che non bisogna esserci quando arriva la tempesta quindi meglio muoversi questi tubi qua servono per andare veloce da una parte all'altra se non sbaglio mi ricordo di aver visto qualcosa però anche no adesso one shot ok mi ha colpito alla testa ah che belle partite queste sono soddisfazioni mezz'ora camminare e poi trac bene ragazzi anche questo episodio è finito come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace commentate iscrivetevi al canale se non siete già iscritti e attivate la campanellina tutti i link utile tra cui i miei social li trovate qua sotto nella descrizione e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao